Chiusa la stagione con la sospirata salvezza per il Teramo è ora di programmare nella stagione futura. Partendo da chi la squadra del prossimo anno dovrà costruirla, perché la doppia sfida con Lumezzane ha certificato ancora una volta quanto questo organico vada rifondato completamente. Ed allora ecco che il diavolo si sta muovendo alla ricerca di un direttore sportivo che dovrà scegliere il tecnico e iniziare la campagna acquisti, ma soprattutto quella delle cessioni, che non sarà affatto semplice. Perché sono tanti i contratti che saranno in essere anche per il 2017-2018, ma di cui il Teramo non sembra avere davvero bisogno. In giornata previsto incontro con Sandro Federico, l'ex DS della San Benedettese che in questo momento sembra il favorito alla poltrona, che in questa stagione ha visto alternarsi prima Fabio Lupo e poi Alec Bolla con esiti non proprio soddisfacenti. È naturale che dovesse essere scelto proprio Federico l'accostamento con Ottavio Palladini sarebbe semplice, ma non scontato, visto che l'ex giocatore del Pescara non è solo pressato dalla vastese di Bolami, ma è anche insidiato da una concorrenza che non è folta, ma è agguerrita. Sulla lista c'è anche Massimo Epifani, che quest'anno ha guidato la San Nicolò e che dopo tre anni sembra aver concluso la sua esperienza in Biancazzurro. Poi ci sarebbe il nome, uscito nei giorni scorsi, di Antonino Asta, quest'anno a Salò con la Feralpi, prima del divorzio dai Leoni del Garda. È chiaro che Federico nel ruolo di direttore sportivo non può essere l'unica opzione a disposizione di Campitelli. In seconda posizione infatti c'è anche Antonio Bocchetti, ex giocatore con un recente passato anche a Pescara, e che ha avuto un'esperienza da dirigente a Pagani come responsabile dell'area tecnica. In questo Valzer di nomi occhio agli incroci, perché le coppie potrebbero spaiarsi e dare vita a convergenze che oggi non sembrano probabili, ma che solo le vie infinite del mercato possono rendere possibili. Grazie.